Cari fratelli, care sorelle, pace e bene, buongiorno per tutto il giorno. Meditiamo stamattina il Vangelo di Luca, capitolo 15, versetti 1 a 10. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi murmuravano dicendo, costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola, chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro, rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure quale donna che ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice, rallegratevi con me perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Parola del Signore Apriamo questo capitolo 15 con queste due parabole, il capitolo 15 di Luca che sarebbe come un capitolo della misericordia perché abbiamo tante parabole che parlano della misericordia e le due parabole ti indicano la premurosa o instancabile diciamo misericordia di Dio. Nella prima parabola il pastore lascia le 99 pecore in circa di solo una che era perduta e qui naturalmente si riferisce a questi farisei. Cominciavano a murmurare, i farisei, gli iscrivi, loro pensano essere giusti, non hanno bisogno di nessuna conversione perché parlano con Dio, comunicalo con Dio, sono al servizio di Dio, sono servi del Signore, dunque non hanno bisogno di alcuna conversione. Allora loro che fanno parte 99 giusti, ma invece i peccatori, i pubblicali, tutti quanti fanno parte di quella pecora che smalita, che il padrone va in cerca perché c'è da dare la vita anche a questa pecora. Ecco Dio usa sempre la misericordia e va in cerca di chi è perduto. Ugualmente la donna lascia quella moneta, potrebbe dire ma ce ne ho tanto, allora questo qua non serve, ma comunque lascia le monete e va in cerca. di quella perduta. Ecco per dirci carissimi, Dio nei confronti di questi farisei di Israele ha sempre usato la misericordia. E' lui che va in cerca delle pecore smalite come lo fece anche ad Adamo nella Genesi 1.11. Adamo dove sei? Dove sei? Dunque non è più l'uomo che cerca Dio, ma è Dio che va in cerca dell'uomo perché l'amore suo per l'uomo li porta proprio andare in giro a cercare l'uomo per portarlo all'ovile perché lo deve dare la vita e la vita in abbondanza e perciò Dio non abbandona nessuno. Dio condanna il peccato ma non il peccatore. La sua gioia come ce lo spiega il Vangelo è di vedere la conversione, di vedere l'uomo convertirsi, cambiare vita, abbandonare la strada che porta alla perdizione e per abbracciare la strada, per abbracciare diciamo la strada che porta alla vita. Ecco quello che il Luca stamattina vorrebbe insegnarci che Dio usa la misericordia, va in cerca dell'uomo. Tocca a noi adesso di aprire il cuore per accogliere Cristo che viene sempre in cerca di noi perché siamo quasi quasi le pecore smalite. Non è il fatto di andare a messa o di fare le preghiere, le riunioni spirituali e così via che noi siamo proprio davanti al Signore. Qui tocca a vedere anche la dimensione morale, la dimensione dell'amore, il rapporto tra di noi, come ci relazioniamo, come viviamo insieme. Quanti di noi non voglio neanche sentire la parola perdono, quanti di noi non voglio neanche perdonare gli altri quando Dio ti perdoni ma noi non vogliamo perdonare gli altri. Penso anche, tocca a noi come discepoli di andare in cerca delle pecore smalite, degli amici, i parenti, i fratelli, delle persone che conosciamo, che sono smalite, che hanno abbandonato il Signore per vari motivi. Perché non possiamo anche andare in cerca di loro per farli tornare all'ovile, capire e comprendere la volontà di Dio, camminare ancora con il Signore per avere una vita migliore sulla terra e la vita eterna in cielo. Questa sarebbe anche la nostra missione. Dunque, il Signore vorrebbe dire a ciascuno di noi, cambiamo vita, cambiamo vita, abbandoniamo quella strada che noi stessi sappiamo, conosciamo, che questa strada ti porta alla rovina, che questo mio comportamento distrugge me stesso anche chi sta intorno a me. Non ci accaniamo a dire che ecco, io sono fatto così, io non posso cambiare, io non posso cambiare, no. Tutti abbiamo la possibilità di cambiare. Invochiamo lo Spirito Santo di aiutarti a convertirci per essere sale e luce in mezzo alla gente che frequentiamo, così anche loro, vedendoci cambiare, cambieranno vita e torneranno a rovire. Che Dio vi benedica, che Dio vi aiuti.